Sicurezza stradale, una responsabilità condivisa tra i rider e la città. Si è svolto questa mattina presso l'Istituto Professionale per i Servizi, l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Duca di Buonvicino a Calata Capodichino, l'evento che aveva lo scopo di testimoniare l'impegno del Comune di Napoli e di Just Eat per migliorare la sicurezza stradale attraverso iniziative congiunte, incentrate su educazione e formazione, per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori e ai cittadini. Un'occasione importante per fare da parte nostra, come dire, porre attenzione su sicurezza che deve essere garantita a questi lavoratori che sono tutto il giorno sulla strada, ma io direi soprattutto in questo momento storico e anche da parte di Just Eat l'occasione per ricordare l'importanza non solo della sicurezza stradale ma anche la sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi dispositivi di protezione individuale, particolari assicurazioni che ci devono essere per questi lavoratori. Nell'occasione è stata dunque presentata la Carta della Sicurezza Stradale, un progetto con una specifica dichiarazione di intenti in nove punti che prevede iniziative congiunte incentrate su educazione e formazione da parte dell'amministrazione comunale e dell'azienda. Questo è un accordo, un nuovo accordo che abbiamo stretto con il Comune di Napoli e che prevede una serie di iniziative congiunte per migliorare la sicurezza stradale anche e soprattutto per i nostri rider. L'azienda chiaramente lavora per spingere i rider a rispettare le regole della strada e anche ad avere un comportamento che sia un comportamento rispettoso di quelle che sono le norme e noi affianchiamo l'azienda dal punto di vista della formazione e delle attività di garanzia della sicurezza. Noi abbiamo un'azienda che oggi ci tutela, ci tutela abbastanza con un contratto importante e vorremmo che la città ci tutelasse ugualmente come ogni città. Noi abbiamo dei rischi la sera, la notte come aggressioni, furti e pericoli che ci possono trovare su strada, vorremmo che comunque ci dessero una mano anche le autorità competenti.